Qua è poche parti che vi parla, oggi vi mostrerò le mie carte e poi aprirò una bustina di uraganoplasma. In cominciamo. Qua è poche parti che vi parla, oggi vi mostrerò le mie carte. Ruggetto della vita, Olo, Darkrai, Full Art, Promo, Anfesant, Raro, Semistod, Reverse, Yamega, Raro, Dreamflying, Reverse, Pichu, Raro, Axelgor, Raro, Mook, Deltin Plasma, Reverse, Tor, Raro, Bravery, Raro e infine Leaphone, Raro. La bustina come vedete non l'ho ancora aperta. Vediamo se riusciamo a salvarla. No, non ci sono riuscito. Il codice. Il codice. Trick. Durant del Team Plasma. Torso. Intel, Erginbredire, Pillos장님i, Timbuli, Joltik, Vanillite, Rialu, Teamchar. seguace dal team plasma raro e gelatin raro dal team plasma ciao a tutti se vi interessa qualcosa commentate e mandato un messaggio privato e iscrivetevi al mio canale